Allora, che c'è? Gli archivi elettorali, perché ha detto che non c'erano? Di là ce ne sono 8 casse. Tutto qui? Il seguitario provinciale mi ha spiegato come funziona, un tanto a me, un tanto a te. Che discorso scrivo allora io? Scrivo delle cose finte. A mal dove è venuto uno che voleva offrire dei voti. E vorrà qualcosa in cambio. E tutti i soldi della campagna elettorale, dove vengono fuori? Dai 21 miliardi di polline, che sono soldi suoi. Insomma, si tratta di tangenti. Lei fa dei fatti. Chiudo davvero. Ero assessore all'urbanistica. Viene un signore con l'accompagnato alla moglie. E mi fa tutto ragionare a una premessa in cui mi raccontano della loro crisi coniugale. C'è delle città. Ma io signore, ma che posso fare? Cioè, forse avete sbagliato l'ufficio. Andate al piano, che c'è un assistente sociale, c'è un servizio sociale. No, ma veramente il problema mia figlia è grande. Ha 13 anni, ha quaglione fatta grande. Capisce. Io non riuscivo ancora a cogliere la relazione tra una crisi coniugale, in questo caso familiare, e la mia attività di assessore all'urbanistica e all'edilizia. Insomma, la loro crisi coniugale derivava dal fatto che gli spazi della casa ormai erano angusti e che non avevano la possibilità di aumentare il volume edilizio della propria abitazione. Tutto ciò aveva determinato questa grande, irreversibile crisi, se non fosse intervenuto l'assessore a risolvere il problema. Ovviamente forzando regolamenti e norme tecniche, perché se non avessero anche qui le domande sono spesso illegali, spesso illegittime, spesso al confine, diciamo, della legalità, che fortemente non avrebbe bisogno uno di venire, no, basterebbe una burocrazia più o meno efficiente, basterebbe la circolazione delle informazioni anche su rete. Sì, è arduo a riportarlo, no, su un piano di sociologia e la vita quotidiana. A me sono venuti tanti stimoli, ora vi provo a dire qualcosa e a raccontarvi qualcosa. Sì, questa è una ricerca di sociologia e la vita quotidiana e ne approfitto per ringraziare il maggiore esponente di sociologia e la vita quotidiana in Italia, che è oggi qui ed è colui che mi ha seguito nella ricerca, tra l'altro è Paolo Iedrosi. e l'avevo dimenticato di ringraziarlo per essere anche oggi presente. Allora, la cultura del favore emerge poi dalla ricerca che la cultura del favore, immaginate in Calabria, poi lo sappiamo un po' tutti, sia presentissima e difficilmente sradicabile, no? Vi leggo quanto dichiarato da un sindaco. Durante il funerale di mio padre mi chiesero una raccomandazione. Questo episodio dimostra come la gente non capisce, non comprende, oppure cerca di cogliere qualsiasi attimo per chiedere il favore. Ti l'ha scelto, eh? Chi è stato? Ma non l'abbiamo scelto, ce l'hanno dato. Non mi parlare così, stronzo, che vuol dire ce l'hanno dato? Non c'è nessuno qui dentro capace di dirmi se ci danno un imbecilio o un genio, eh? Io mi ero fatto dare curriculum. Il curriculum? Bravo! Se l'ha fatto dare il curriculum! Ma vattene via, sparisci, non voglio più vedere questa faccia da frocio! Vai via, dammi del lato, dai! Il sistema è prettamente clientelare. Le persone ti vedono come detentrice del potere e quindi puoi tutto. Ti vedono come soluzione del problema del momento. E poi, ripeto, oltre a essere un sistema clientelare, non c'è una coscienza pubblica, non c'è una coscienza civica del voto. Questo viene dato per i favori. Credo sia molto significativo in una città dove, anzi, diciamo così, in un'area urbana dove i primissimi eletti del 2006 sono persone per curriculum, per curriculum pubblico, parlo, che non è che abbiano titoli o competenze riconosciute. Hanno riconosciuto l'ambasciata, il favore. Ci sono messi con queste elezioni, ci danno 400 sport elettorali a un quarto del prezzo di mercato, ma dobbiamo tenerci quel regista lì, è il fratello della manca... Sei un imbecille! Lo sai che sei un imbecille? Diti sì! Diti sì! A quei signori in Parlamento gli abbiamo regalato la metà del mercato televisivo di questo paese. Che bisogno hai tu di prendere un cialtrone, eh? Che bisogno abbiamo di prendere un cialtrone? Scusa, Briana, non potremmo farci dare un regista dalla RAI? Dico, con tutti i deficienti, con la tessera che abbiamo fatto assumere la RAI? Non ce n'era uno! Dico uno in grado di fare un lavoro più decente di quello stronzo lì, no? Vi racconto un episodio e vi do anche uno scoop, no? Diamo una news. Allora, io fino a febbraio, fino a gennaio, sono stato a Napoli e ho curato la campagna elettorale di un politico napoletano, candidato alle primarie. Svolgevo il ruolo di ghostwriter, scrivevo i discorsi, scrivevo i suoi articoli. Ero ufficialmente, lavoravo ufficialmente per lui, ufficiosamente io di notte prendevo i miei appunti etnografici. A Napoli, alle primarie, nonostante si credeva c'era il timore, la gente non va a votare, non c'è partecipazione, speriamo che almeno vadano a votare in 15.000, speriamo si arrivi a 17.000, diceva. erano primarie di coalizione a Napoli, il 24 gennaio, il 23 gennaio 2011. Sapete in quanti sono andati? 15.000, 17.000? Oltre 40.000 persone. Sono andati in 44.000 persone a votare a Napoli. E non perché i napoletani avessero voglia di partecipazione, ma perché sono andati a votare in massa le periferie napoletane e le persone che sono andate a votare o sono state pagate al momento oppure quelle persone dovevano riconoscere, dovevano a loro volta ricambiare il favore perché molti avevano ricevuto un posto di lavoro, molti erano assunti nelle cooperative. Parlo per chi conosce Napoli delle zone di Miano, Scampia, Secondigliano, San Giovanni a Teduccio e quella zona vicino, tra Napoli e San Giovanni a Teduccio. Fai molto bene. Questa domanda di Vitalizio qui, messa in bella evidenza sulla mia scrivania, è opera tua? È un grandissimo poeta, non c'ha neanche i soldi per mangiare. E poi siccome non voleva mettere la firma, la firma l'ho fatta io, è falsa. I poeti. Allora, quella, mi chiedo, che forma di partecipazione è? È comunque una forma di partecipazione. È comunque una forma di partecipazione forse malata, forse ragnovole, ragnovole. Lo scoop che vi do è che tra 20 giorni tutto quello che ho visto, tutto quello che ho osservato, tutto quello di cui ho preso nota dovrebbe uscire in un volume che al momento è segretissimo, si chiamerà emozioni primarie, e adesso non è più segreto, lo raccontiamo e proviamo a raccontare quello che abbiamo fatto in sei mesi di campagna elettorale dal di dentro, dalle riunioni con Bassolino, con la Ierbolino, da queste dinamiche di partecipazione. E credetevi, il contesto napoletano, con tutte le distinzioni dovute al contesto metropolitano, è molto simile.